Sono circa dieci anni che la produzione non è più costante. Un anno fruttuoso e l'altro invece poco proficuo, viaggia zigzag tra grandi e deludenti annate la produzione dell'olio nel territorio. Un 2023 che ha visto un calo del 30% rispetto alla produzione media, una parabola discendente che attraversa tutto lo stivale, fino alla Spagna, numeri che porteranno a un aumento dei costi del prodotto. E se torniamo nel Bassanese, un anno iniziato con grandi aspettative, concluso però con uno sgradito ospite. C'è stata una bellissima fioritura, una buona legagione e poi quasi all'improvviso c'è stata una famiglia di funghi che ha agito, aiutata anche dagli sbalzi di temperatura e in particolare dalle cimici che buccano da una pianta all'altra e quindi fanno da vettore. Per cui in poco tempo il picciolo si è trovato non nutrito, il manichetto si seccava e poi le olivette annerivano e sono cadute. Fungo al momento sotto la lente di ingrandimento degli studiosi. Un gruppo di tecnici agronomi guidati dal professor Benedetto Ruperti dell'Università di Padova sta valutando come trovare l'antidoto a questo fungo. Perché hanno visto che attorno ai vigneti dove mettevano le piante così nei limiti, trattando i vigneti e magari dando un po' di prodotto anche all'oliva, non sono cadute. Prodotti però non ammessi in olivicoltura. Quindi devono valutare quale prodotto potrà andare bene per assicurare la continuità di produzione. E se la produzione è stata deludente, la qualità dell'olio locale rimarrebbe ottima. La qualità è sempre ottima. C'è stata una resa un po' più bassa perché durante la raccolta è piovuto e la pioggia gonfia un po' le olive e quindi pesano di più. Però la qualità è sempre eccellente.